Il problema delle migrazioni secondo noi è stato affrontato in una maniera a cui siamo molto contrari. Abbiamo deciso di venire qua, dato che siamo un progetto sportivo con un allenamento dimostrativo per dire la nostra, per dire che questa Europa di muri e filo spinato non ci piace e che diamo libertà di movimento e diritti per tutti e che è sempre più ridicola la situazione. Ridicola e preoccupante è la situazione che si sta creando in Italia. Ci sono tanti modi per entrare in contatto. Secondo noi lo sport è il calcio, la linguaggio universale che permette di stare insieme persone che parlano lingue diverse, che vengono da culture diverse e all'interno del campo da calcio, insomma, le differenze che spesso creano barriere possono invece essere un qualcosa di positivo. Il nostro progetto serve a creare punti laddove ci sono muri.